Assessore, i nodi purtroppo vengono al pettine. La saturazione del carico termico l'avete data a voi e avete costruito uno scudo di carta pesta dell'accordo che aveva sopra la data di scadenza, come lo yogurt, per indorare la pillola. Ma la sostanza rimaneva quella. Il problema però è ben più grave perché il problema è strutturale. Qualche giorno fa, ma anche lei adesso, qualche giorno fa il Presidente Bonaccini con un post sponsorizzato, evidentemente in questi giorni ha bisogno di farsi pubblicità, si vantava che nessuno può darci lezioni su rifiuti perché in legge abbiamo scritto 73% e perché non siamo mai andati in emergenza rifiuti. Ma il Presidente, lei immagino che li abbia visti, li ha visti i dati aggiornati del piano rifiuti. Bene, in barba all'accordo dei 130.000, voi avete dovuto derogare anno scorso a 170.000, 167.000, proprio a Parma. Non basta scrivere la letterina Babbo Natale che nel 2020 saremo tutti più buoni e raggiungeremo il 73% per risolvere i problemi dei rifiuti. Il problema starà, dice, al peccatore originale che il PD di questa Regione ha sempre sostenuto come modello e come sistema. Un sistema che ha legato questa Regione mani e piedi alle grandi multi-utility e ai loro impianti ed investimenti. Se c'è sovrabbondanza di inceneritori, gli indifferenziati non calano. Che problema c'è per i gestori della raccolta che sono sempre loro? Anzi, che problema c'è non ridurlo? Anzi, si ripagano meglio gli investimenti e fanno margine. E che il sistema sia inchiodato, ne sono però anche i bastoni fra le ruote che ha avuto il percorso di Alea for lì e che sta avendo. Perché, ad esempio, perché le banche non concedevano credito ad Alea? Perché Alea si è ritrovato una fidegustione ingiusta ed insensata e la Regione e Attersir hanno taciuto. Che il sistema sia inchiodato, lo dice anche il parere di Cantone sulla gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna. Dice che Attersir è sotto cattura del... c'è la cattura del regolatore da parte dei gestori. Quindi Attersir è catturata. Perché? Perché Attersir non ha fatto le gare. Perché le gare che sta facendo le sta facendo artificialmente grandi per far partecipare solo i grandi. Avete fatto dei bacini di affidamento enormi, con date che non finiscono più. Ecco, è qui il peccato regionale di questa Regione, che non risolve il problema dei rifiuti e anzi li fa aumentare. Basta guardare i dati. Abbiamo un rifiuto indifferenziato pro capite che è dieci volte quello delle migliori esperienze nazionali. Se guardiamo i dati dei comuni ricicloni, il Veneto, il Trentino, il Friuli, Venezia e Giulia hanno una percentuale di 25-28% di comuni che raggiungono con gli obiettivi. La Regione Emilia-Romagna è il 2%. Perché noi non scendiamo sotto? Perché il sistema è questo. Tornando a Parma, quello che ci aspettiamo da voi è una presa di posizione netta. Un tavolo ci sembra poco. Noi vogliamo che la Regione prenda in mano tutti gli strumenti deboli del PRGR e di Moro Suasion, di cui è capace la Regione. Se il Presidente e l'Assessore si dovranno incatenare ai cancelli dell'insegnatore, penso che li accompagneranno a volentieri. Parma è la Food Valley. Parma sarà la capitale della cultura. Allora, non possiamo rischiare che grazie a voi diventi la capitale dell'incenerimento e le aziende e i comitati e le associazioni finalmente se ne stanno accorgendo. Quindi io vi chiedo un'azione forte verso il gestore con tutti gli strumenti che avete, anche con quelli che non avete. Poi, per rifondare il sistema di gestione dei rifiuti, purtroppo penso che bisognerà cambiare il governo della Regione e spero che al prossimo giro ci sia qualcun altro che affronti sul serio il problema della gestione dei rifiuti. Grazie.